Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tutti in Italia conoscono la serie TV Don Matteo. Si tratta di una delle serie televisive Rai che hanno avuto più successo in questi ultimi anni. Le vicende di Don Matteo si svolgono nella bellissima Gubbio, cittadina umbra che si trova in provincia di Perugia. Negli episodi della serie Il sacerdote, come si sa, si trova sempre in mezzo ad alcuni fatti di cronaca che a volte egli prova a risolvere. Insomma, una serie che è piaciuta e ha commosso tutti gli italiani. Ma purtroppo in queste ore un gravissimo lutto ha colpito la produzione di Don Matteo. Secondo quanto si è appreso dalla stampa nazionale, in queste ore è morto Enrico Oldoini. Si tratta di uno dei registi più noti del nostro paese, ideatore appunto della serie Don Matteo. Nel corso della sua importante carriera Oldoini ha collaborato con importantissime personalità del mondo del cinema e dello spettacolo italiano come Maurizio Ponzi, Carlo Verdone, Lina Vermiuller e Marco Ferreri. L'uomo aveva 77 anni. Su ha anche l'ideazione di alcuni cinepanettoni assieme a Cristian De Sica e Massimo Boldi. Al momento non sono note le cause della morte del noto regista che non soffriva di nessuna malattia, quindi si tratterebbe di un malore improvviso. Grazie. Grazie. Grazie.